Guarda com'è facile da fare questa torta salata con asparagi e tonno. Ti salverà il pranzo e la cena un sacco di volte. Metti al centro della pasta sfoglia il tonno. Aggiungi poi il formaggio tagliato a pezzetti e gli asparagi, bianchi o verdi, quelli che più preferisci. Tagli a strisce le parti laterali della pasta sfoglia. Chiudi la parte superiore e inferiore in modo da creare il bordo che contiene il ripieno. Intreccia poi le strisce in modo da chiudere e sigillare la torta salata. Spennella il rotolo con dell'acqua o con dell'uovo sbattuto come più preferisci. e spolvera con i semi di sesamo. Fai cuocere a forno statico già caldo per 20-25 minuti. E se lo provi, fammi sapere!